La mascherina va indossata, lo dichiara a 15 la prefetta Francesca Ferrandino. I vincitori del progetto Recover Ingredients presentano la loro idea per la salvaguardia del mare. Euro Cup, la Virtus, festeggia il ritorno al Paladozza con un successo su Locomotive Cuban. L'artista Carlo Gaiani in mostra al Liceo Artistico Arcangeli. Benvenuti al GR in Cronaca, in studio Virginia Pedani. Apriamo con l'emergenza Covid. La prefetta di Bologna, Francesca Ferrandino, è perentoria. Bisogna indossare la mascherina, afferma nell'intervista a 15. Ci dice di più Bruno Cosentino. Nei luoghi con assembramento bisogna mettersi la mascherina. Lo prevedono le regole. Lo prevedono regole di civiltà. Lo prevedono regole di cittadinanza attiva. Così il prefetto Francesca Ferrandino a proposito del tema mascherine. Intervistata da 15, bisettimanale ed in Cronaca, Ferrandino si richiama alle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo il quale la libertà consiste nel proteggere l'altro. L'autorità sanitaria ci impone di mettere le mascherine e la salvaguardia della salute è un principio costituzionale, aggiunto. Nel corso dell'intervista, il prefetto ha affrontato anche il tema della criminalità organizzata, invitando l'Emilia Romagna a non abbassare la guardia. Interpellata sul terrorismo, Ferrandino non ha voluto sbilanciarsi. È stupido affermare a priori che la stagione delle stragi sia finita, le parole del prefetto. L'intervista integrale si potrà leggere nel prossimo numero di 15, in uscita oggi. Per la salute dell'ambiente e dell'uomo arrivano i nuovi cosmetici realizzati con ingredienti a base di scartitici. L'idea è di due giovani imprenditori del CNR di Faenza. I dettagli con Beatrice Maroni. Si chiama Recovery Ingredients, il progetto di due giovani ricercatori che nell'ambito di un'economia circolare hanno ideato degli ingredienti innovativi per cosmetici. L'obiettivo è quello di salvaguardare l'ambiente marino, ma anche la salute dell'uomo. A partire dagli scarti ittici, in particolare riutilizzando gusci di molluschi, lische di pesce e gusci di conchiglie, sono riusciti ad ottenere in laboratorio degli ingredienti totalmente naturali e biocompatibili, utilizzabili per la produzione di creme solari e per sostituire le microplastiche presenti in molti prodotti cosmetici. L'idea di Alessio Adamiano e Michele Iafisco ha vinto la finale italiana di Mistral, progetto economico finanziato dall'Unione Europea per favorire la nascita di nuove idee imprenditoriali sostenibili nel settore marittimo. La finale internazionale si terrà il 22 ottobre e parteciperanno start-up e spin-off accademici di tutta Europa. Il prossimo step che li attende, spiegano i ricercatori, è quello di dare avvio all'impianto di produzione su scala industriale per iniziare ad avere i primi contratti con i clienti. Già molte multinazionali del settore hanno mostrato il loro interesse. Al via la diciassettesima edizione della Festa Internazionale della Storia, quest'anno quasi tutta virtuale. Cambiamo il mondo, ma il mondo cambia noi, sarà il tema dell'iniziativa, che secondo il rettore dell'Alma Mate Francesco Bertini, contribuisce a rendere Bologna capitale della storia. Ce ne parla Francesca Bombarda. Riparte la Festa Internazionale della Storia, che quest'anno si svolgerà principalmente con eventi virtuali dal 17 al 25 ottobre. Anche la conferenza di presentazione si è svolta online, ma d'altronde la storia è cambiamento, come ha ricordato il direttore Rolando Dondarini, sottolineando anche il tema di questa diciassettesima edizione. Cambiamo il mondo, ma il mondo cambia noi. Nonostante la rivisitazione sul web, si è cercato di ospitare il maggior numero di eventi possibili, a prova dei successi delle edizioni precedenti. 4.020 con oltre 620.000 presenze, che rendono la festa la più grande manifestazione del genere in Europa. Versione mediatica anche per il Passamano per San Luca, l'evento più significativo, con cui da 16 anni si ripropone lungo il portico di San Luca la lunga catena umana che nel 1677 permise di trasportare sul Colle della Guardia i materiali per la costruzione del grande portico. Alla conferenza, oltre a organizzatori e consiglieri comunali e regionali, erano presenti anche il rettore dell'Alma Mater, Francesco Bertini, e il sindaco Virginio Merola. Entrambi hanno sottolineato la necessità di continuare a valorizzare il ruolo del passato nella società di Bologna, che anche grazie a queste iniziative storico-culturali può definirsi capitale della storia. Lo sport urbano arriva sotto le due torri. Al Dumbo, 1700 metri quadrati di superficie attrezzati per parkour, skateboard e inline skate. Il servizio è di Leonardo Petrini. Parkour, skateboard e inline skate. Riparte l'Eden Park, in una location nuova, il Dumbo di Via Casarini. 1700 metri quadrati di superficie attrezzati per lo sport urbano. La data X per l'inizio del progetto sarebbe dovuta essere il primo marzo scorso, ma l'emergenza sanitaria aveva fermato tutto. Ora si ricomincerà l'11 e il 18 ottobre collezioni di prova gratuite ma su prenotazione. Nonostante la grandezza degli spazi a disposizione, infatti, le norme anti-covid prevedono ingressi contingentati. Alla conferenza stampa di presentazione del progetto c'era anche l'assessore allo sport Matteo Lepore. Non era scontato mettere in piedi tutto questo. È la conferma della solidità delle realtà locali a Bologna. L'idea è quella di lavorare sulla zona per andare oltre la convenzione stipulata per il Dumbo, che scadrà nei prossimi anni. Vogliamo dare una configurazione definitiva a questi capannoni, anche se l'uso che se ne fa già adesso non deve essere visto necessariamente come transitorio, ha dichiarato Lepore. Tra gli eventi che potrebbero animare i padiglioni dell'ex Scalo Merci Ravone è anche il booming Contemporary Arts Show, la mostra che dopo l'edizione dello scorso anno è ora in fase di valutazione per gennaio 2021. Ora è il basket, seconda vittoria consecutiva in Eurocup per la Virtus Bologna, che al Paladozza batte con qualche difficoltà i russi dello Komoti Kuban. Ci racconta come è andata Alessandro Arena. Due su due per la Virtus Bologna, che dopo il successo in Lituania con il Lietka Belis, visse abbattendo i russi del Lokomotiv Kuban al Paladozza, davanti a un pubblico di quasi 1500 persone. 85 a 79 il risultato per i ragazzi di Djordjevic, che ora comandano il girone di Eurocup con il Monaco. Come la settimana scorsa, la vittoria è arrivata dopo un primo tempo di grande sofferenza. I russi infatti sono partiti molto bene, tirando con oltre il 50% da 3 punti. La Virtus è stata costretta a rincorrere per l'intera frazione, chiusa sotto 36 a 40. Ma anche stavolta è stato il terzo quarto a fare la differenza, con le V nere che hanno alzato le percentuali al tiro e messo la freccia per il sorpasso. 32 i punti segnati nel parziale, con i russi rimasti comunque a contatto. Il quarto periodo è stato tiratissimo, con la Virtus che dopo aver toccato il più 11 è stata ripresa dagli avversari grazie ai continui viaggi in lunetta. A spezzare definitivamente la partita, la tripla di Wims ha pochi secondi dalla fine. 13 punti per lui, 18 con 7 assist per Teodosic e 17 con 9 rimbalzi per Adams. Prossimo avversario il Mora-Bancandorra, martedì prossimo alla Vella. Dall'8 ottobre al 6 novembre, al Centro Studi Didattica delle Arti, una retrospettiva dell'artista Carlo Gaiani, curata dal critico d'arte Renato Barilli. Scopriamo di più con Marco Sant'Angelo. Carlo Gaiani associava brillantemente la fotografia a un agile intervento di forbici. Era un visionario, aveva la capacità di capire l'evolversi dell'arte e ne adattava alle sue produzioni. Lo ricorda così il critico d'arte Renato Barilli, che dall'8 ottobre al 6 novembre curerà una mostra dedicata al pittore, incisore e fotografo bolognese scomparso nel 2009. Gaiani è stato tra i primi in Italia a occuparsi del rapporto tra ritratto e fotografia, formulando i problemi teorici del genere fotografico, proponendo la propria soluzione stilistica. Ispirato dalla pop art di Andy Warhol negli anni 70, rivolse il suo interesse verso il ritratto dipinto a partire da una base fotografica, raffigurando numerosi scrittori, artisti e intellettuali, da Eco a Calvino, da Pasolini a Moravia, da Celati a Scabia fino alla Ginzburg e Arbasino. Dal riporto fotografico ritagliava lembi, aree, tratti di superfici come fossero ingegnose ed enigmatiche ombre cinesi. Spiega Renato Barilli che con Gaiani condivideva anche un grande rapporto d'amicizia. A partire dagli anni 80, Gaiani abbandonò i pennelli per dedicarsi alla fotografia, abbracciando le diverse forme del ritratto, dal paesaggio e dal nudo. I suoi lavori sui paesaggi vanno dagli ambienti urbani del Nord America alla pianura del Po in Italia, mentre nel suo studio a Bologna e all'Accademia portò avanti un lavoro di oltre 20 anni sul nudo e sui rapporti che si instaurano tra fotografo e modella. Le opere dell'artista bolognese in ennore del decimo anniversario di morte saranno esposte per quasi un mese al Centro Studi Didattica delle Arti. Angela Zanotti, la vedova di Gaiani e presidente della fondazione che porta il suo stesso nome, sottolinea l'importanza di questa mostra e rivela che saranno esposte anche opere inedite appartenenti alla prima fase di produzione di Gaiani, quella degli anni 60, quando l'artista si concentrava sull'aspetto della pittura e dell'incisione prima di approdare definitivamente nel mondo della fotografia. Per questa settimana è tutto, un saluto dalla redazione di Incronaca.